Buongiorno a tutti, grazie a tutti voi che ci stanno ascoltando, oggi è una giornata importante per la nostra città, ringrazio Manuela Piedevo e Manuela Pallini per la seguire con i suoi collaboratori, il professore per la presentanza dell'Istituto Corriere di Campana, il sessore Assoluto Michela Grotto, perché siamo qua e perché il Comune di Oso non ci metta a disposizione del Fari. 23 e 24 marzo 2024 verranno di nuovo aperte le porte della città attraverso il Fari, un luogo del cuore della nostra città, un luogo di sana spiritualità che rappresenta un po' anche la storia e le tradizioni della nostra città, perché San Giuseppe da copertino, la base di San Giuseppe è padrono degli esaminanti, padrono degli studenti, soprattutto un attimo solo. Il Fari è oggi protagonista di questa giornata, l'arte, la cultura e quindi il Fari si mette a disposizione di questo luogo così bello, apre le porte ai cittadini di Oso e a tutti quelli che lo vorranno vedere e soprattutto lo fa con una bellissima iniziativa che porta mano da tantissimi anni e che tante volte ci ha visti i protagonisti negli anni precedenti attraverso delle guide speciali che sono gli studenti del Corridone di Campana. Io credo che questo incontro tra un'associazione così importante a livello nazionale che è il Fari e l'amministrazione comunale si debba a chi è a fianco a me, al sessore al turismo Michela Glorio, di cui vado orgoglioso e posso dire che quando ci siamo insediati e quando hanno iniziato a collaborare con me i turisti di Oso erano 8 mila. Oggi i turisti di Oso 12 anni grazie al suo lavoro toccano quota 21 mila e questo importante risultato è anche grazie all'iniziativa come quella che organizza il Fai che porterà tante persone ad ammirare la nostra città in queste due giornate e il mio grazie va anche a tutti quelli che stanno assieme a me perché sono dei volontari. Non è più così facile trovarsi delle persone che tolgono tempo alle proprie famiglie per dedicarlo agli altri, in questo caso lo fanno attraverso il conoscere, attraverso la cultura e attraverso il rapporto con le future generazioni, cioè gli studenti dell'Istituto Polito di Campana ci presenteranno le bellezze della nostra città e chi sarà protagonista? San Giuseppe D'Anto Pertino che è il padrone degli studenti, sempre più il turismo religioso, è una componente importante della nostra città e anche in Italia, per le tradizioni del nostro paese, ma soprattutto l'idiosimo e quindi grazie di cuore l'amministrazione comunale ha sempre sposato questa iniziativa, lo fa anche oggi e lo fa con il cuore, perché se le cose le facciamo con il cuore vengono bene e chi meglio del FAI poteva scegliere Osimo tramite Manuela e i suoi collaboratori perché ama la propria città e ogni anno in queste occasioni trova il luogo da descrivere a tutti coloro che il 23 e il 24 marzo sarà comune. Grazie di cuore, adesso ordine di interventi, parola alla comprensione di istituzionale, all'assessore dell'autorismo Michele Corri, poi all'administrazione e poi all'istituto Corridorio Michele Corri. Grazie a tutti per aver passato la parola, è un appuntamento sempre molto aspettato in città, sia per quanto riguarda il turismo ma anche per i residenti, i cittadini e i suoi mani e di tutta la zona, è un appuntamento veramente abito e siamo lieti che anche quest'anno il FAI ha deciso di fare un'apertura a suo Osimo. Qualche anno fa è stata fatta l'apertura del palazzo municipale ed è stata veramente molto ben accolta in città e quindi cerchiamo che sia la stessa cosa che il complesso monumentale della Basilica di San Giuseppe e da Cupertino per ricordare la storia che si è avvenzato il padrono di Osimo ma anche del francescanismo nelle manche visto che ha ricaduto la ricorrenza, poi poi ci spiegheranno dal FAI. Quindi grazie davvero di cuore per aver portato di nuovo le aperture del FAI ad Osimo e buon lavoro se ne vedo. Bene, passo la parola al responsabile del FAI, grazie signor, grazie Assessora, abbiamo sempre la prova che il comune di Osimo è a fianco del FAI, una sinergia straordinaria che si perpetua da diverse edizioni. La scelta quest'anno è ricaduta sulla Basilica di San Giuseppe da Cupertino per un archivo molto preciso perché quest'anno ricadono gli 800 anni dell'estima di San Francesco, infatti insieme con l'apertura di Osimo ci sarà la compietta con l'apertura gemella ad Ancone di San Francesco in Vescale. Ha detto bene il sindaco, le giornate fa sono una macchina molto complessa, prevedono il compaggimento delle istituzioni, in questo caso vi ringrazio nel cuore i padri minori conventuali della Basilica di San Giuseppe perché sono stati molto collaborativi e hanno citato subito di grande entusiasmo e cuore aperto la proposta di apertura. Inoltre vorrei ringraziare l'Istituto Corridore di Campana e soprattutto nella figura del rappresentante che oggi è qui con noi, il professor Sergione Bucciarelli e tutto il corpo docente che si è impegnato in questi mesi a preparare i ragazzi che gestiranno le visite guidate a questo importante complesso monumentale che rappresenta veramente una parte fondamentale della storia del cittadio di Osimo sin dal 1200. Quindi parliamo di un pezzo di città storicamente molto consolidato che merita di essere conosciuto e soprattutto come mi piace dire sconosciuto e più. Perché poi succede che sì, San Giuseppe è sempre vero, ma in realtà la storia vera non la si conosce, soprattutto nelle varie societature che sono di ordine storico, di ordine architettonico e in questo caso di ordine umano. Perché il focus sarà proprio sulla figura di San Giuseppe. Una personalità straordinaria per essere conosciuta e si è da un ricordato che è il santo devoto degli studenti. Ci sono dei precisi motivi per questa devoluzione che si è sentita da parte degli studenti e che verranno raccontati questi aspetti peculiari del fiume del santo durante le giornate del fai. In questa occasione verano aperte le camere dove lui, diciamo così, viveva in una sorta di romitaggio, perché lui era proprio un santo elemita scettico e quindi in questo modo poi giro, entrando proprio nel vivo dei luoghi dove il santo viveva, già così che si conclude e con natura proprio il valore complessivo di tutto il santuario di San Giuseppe da convertito. Perché non è fatto solo di storia e di pittura, ma è fatto anche di personaggi, in questo caso da San Francesco e da San Giuseppe, che sono due santi di calibro, diciamo, pieno, totale, assoluto. Quindi io ringrazio ancora la seconda amministrazione per l'appoggio e speriamo che i sedatori accolgano questo invito nella scoperta di un pezzo importante della città di Osimo. Ringrazio anche i miei collaboratori, i volontari sono tantissimi, ci tengo a precisare che nelle marche sono 60 per pure e sono 400 aperture in tutta Italia. Considerate che nella provincia di Ancuna sono 11 aperture, quindi siamo, e oggi è stata una scelta proprio per l'alto valore che questa apertura rappresenta. E un'altra cosa importante che grazie a Manu, che volevo ricordare, è che c'è un evento di anteprima, dalle giornate fa, il venerdì alle ore 18, dove si creerà una conferenza proprio che racconterà della storia del santo, che come padre Franco ci ha voluto suggerire, lui lo considera un cittadino osimano. Quindi ci è piaciuto molto questa identificazione di San Giuseppe come cittadino osimano e quindi invito tutti i cittadini residenti a partecipare a questa importante conferenza del fattore delle giornate fai. Grazie. Bene, adesso passiamo la parola al professor Lucciarelli. Grazie, intanto, a tutti io. Beh, le cose da dire sarebbero tante, perché il progetto è un progetto molto complesso e articolato. Intanto ci tengo a dire che il testo e la giornata dei fai sono molto prezioso, prezioso perché sotto tanti punti di vista, perché veramente riescono a far uscire fuori altre competenze dei ragazzi, che non sono quelle che abitualmente riusciamo a vedere a parte della scuola. Quindi è un'occasione per andare oltre, andare a vedere altri aspetti, altre competenze. Questo secondo me è molto importante. Il lavoro è stato un lavoro molto complesso, articolato come si diceva prima, perché qui non c'è solo da raccontare un luogo storico-artistico, architettonico, ma c'è anche un luogo molto importante dal punto di vista architettonico-artistico, che consente tra l'altro ai ragazzi di fare delle scoperte interessanti. Veramente nel corso l'esercito di questa chiesa ha subito tante trasformazioni e queste ovviamente noi le possiamo leggere e vedere. Quindi per noi, dal punto di vista anche strettamente, vogliamo dire, tecnico storico-artistico è stato interessante, perché i ragazzi hanno potuto vedere, toccare con mano, quali sono le trasformazioni che ci possono essere all'interno di un organismo o anche intorno di questo tipo. Quindi tanti aspetti ci sono. Noi nel percorso vedremo anche delle opere d'arte, che sono ogni progetto di valore, soprattutto artistico. Parliamo di artisti come Solario, Dettoro Zingolo, Mattia Preti, insomma opere che sono importanti e da rivalutare e da far conoscere per bene, secondo me, alla collettività. Perché i ragazzi conoscevano questa chiesa. Allora io non sono un'occasione, un'occasione molto preziosa per i ragazzi. E attraverso questo lavoro poi perché loro prendono veramente coscienza e consapevolezza ancora di più di quello che hanno intorno. Nella loro collettività, nella loro città, se ne sentono ancora di più parte integrante. E' per questo che i progetti di Regione del FAI sono importantissimi in questo senso. Quindi loro veramente in questo modo capiranno ancora di più perché questa chiesa è un simbolo così importante per questa città. E questo è fondamentale perché crea questo legame tra i cittadini e le cose materiali. Perché se noi veramente rimanono un po' le cose astratte, invece non ne andiamo sul concreto. Concretamente andiamo a vedere e facciamo avvicinare i ragazzi a questi temi. Quindi abbiamo coinvolto i ragazzi delle quarte linguistico e classico dell'istituto. I ragazzi hanno preso i lavorati con entusiasmo. Non era facile perché comunque è stato un lavoro molto complesso, anche di ricerca e di elaborazione test. Insomma, complesso, però ne abbiamo seguiti. Anzi ne approfitto per ringraziare altri colleghi, Martina Gambioni e Giulia Sarmatini, altri colleghi che hanno aiutato vivamente in questo lavoro e che hanno preso possibile poi tutto, ecco, tutta la verità. Quindi niente, adesso anche noi siamo curiosi di vedere come le incinano i ragazzi, ovviamente perché è un'occasione. Anche io ho la possibilità di vedere sotto un'altra testa e questo è fondamentale perché in classe invece i veri delle giornate saranno diverse e quindi sarà un momento fondamentale. bene. Posso aggiungere una cosa? Lasciamo le conclusioni a Emanuele Rapparini. Devo solo aggiungere, rispetto a quanto ha detto il professore, che il progetto delle Verdi e dei Ciceroni è uno dei progetti pilastro del FAI perché, diciamo così, presuppone un'azione di cittadinanza attiva e soprattutto nella direzione della cultura civica perché comunque studiare un monumento e poi renderlo, diciamo così, fruibile attraverso il racconto verso le persone che sono i visitatori, sconoscendo in più è un grande gesto di condivisione sociale ma anche proprio di amore verso la propria città che unisce sia i Ciceroni con i visitatori. e questa è un'esperienza per loro veramente tracciante, cioè gli faccio proprio un sorpo profondo perché, diciamo così come piace dire a noi, è uno stato di condivisione incondizionata di quello che loro hanno imparato e che durante le giornate FAI donano ai visitatori. È un'esperienza straordinaria per loro anche perché gli aiuta ad entrare anche, diciamo così, in un mondo diverso che non sia solo come una lezione frontale, quindi a un altro tipo di acquisizione di dati e di esperienza. Allora, volevo solo ripetere che 11 aperture nella provincia di Alcona, tra cui una è quella di Osimo. Troverete tutte le informazioni su www.giornatefai.it relativamente alle aperture marchigiane e a tutte quelle distribuite nel territorio nazionale. Bene, seguiamo l'esempio di San Giuseppe da Cupertino, ducchi in alto, ma puliamo alto e aspettiamo tutti il 23-24 marzo alla base di San Giuseppe da Cupertino e ringraziamo di cuore il FAI perché da tanti anni fa questa iniziativa così importante, io dico da dedicare alle future generazioni. Grazie a tutti.